Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove si segnalano 3 km di coda e traffico bloccato per un veicolo in fiamme al km 377 e 400 tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Bologna. Per curiosi si sono formati rallentamenti in direzione Roma. Tornando in direzione Bologna, 3 km di coda per un incidente adesso risolto al km 277 tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Rallentamenti per il traffico intenso tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia in direzione Roma, siamo sul versante Emiliano della variante di Valico. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!